Buongiorno a tutti, questo è il primo giorno del Duccio di Festa a Vieni. Che cos'è il Duccio di Festa? Il Duccio di Festa è un'animestazione giunta quest'anno adottata edizione dell'azienda estiva, ma che è cartagrante, come trovo, è diverso da 2002, non ha l'assegna. Nel te sono felicissimo che la vediamo di in questo meraviglioso programma. È un bellissimo programma, lo seguiremo, vedete, sono delle donne molto interessanti. Questo viene da un po' in concreto, fino ad albaccio, questi territori hanno un osmosico, uno scambio continuo, altre relazioni che non nasce oggi, ma nasce già dall'epoca e dell'epoca, e che ha una sua identità forte e di comunanza di vicinanza talmente solida che in questo distante relazioni non può che essere valorizzato anche da elementi come questo, come il Duccio di Festa. Le Duccio di Festa in questi otto anni di lavoro hanno lavorato bene, hanno un grosso prodotto di qualità, perché soprattutto quando questi festival si prolungano nel tempo, significa che c'è sempre che sono ben strutturati, anche quindi ci sono manifestazioni che durano una, massimo, due stagioni. Noi continueremo a lavorare, perché poi il lavoro è grosso fino al 22 giugno, poi dopo il dottorio e il dottorio e il dottorio e il dottorio. Vi aspettiamo a Pidello l'attivazione del programma e poi ovviamente aspettiamo sia gli obbediani di Pidello per le serate, gli obbediani di Pidello per le serate, gli obbediani di Pidello e solo a Pidello, insomma, come appunto anche a Pidello, per attraverare anche altre persone a seguire la nostra manifestazione. Grazie a tutti e ci vediamo Pidello per la presentazione.